Buongiorno a tutti, a domanda risponde oggi tratteremo di revoche delle domande di mobilità e degli organici di istituto. Tema di attualità visto che è stata già chiusa la fase di presentazione delle domande di mobilità. Andiamo a rispondere alla prima domanda giunta in redazione. Sto pensando di revocare la domanda di mobilità. Fino a quando posso farlo e come si fa? Chi vuole revocare la domanda di mobilità 2021-2022 lo deve fare, salvo deroghe future, entro il 15 maggio 2021, facendo attenzione di avere il protocollo di ricezione della revoca proprio con il riferimento di questa data. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata direttamente all'ufficio territoriale competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo previsto per i docenti il 19 maggio 2021 per la comunicazione al Sidi dei posti disponibili. Rispondiamo alla seconda domanda. Il dirigente scolastico è obbligato a far conoscere l'organico della scuola. Entro quanto si può conoscere l'organico definitivo? Allora, l'organico è determinato sulla base delle classi di concorso definite dal decreto del Presidente della Repubblica numero 19 del 2016 come poi integrato dal decreto ministeriale 259 del 2017. Fatta salva la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e l'ottimale formazione delle classi e la continuità didattica. Ai sensi dell'articolo 22,8 della lettera B3 del contratto collettivo nazionale 2018, gli organici del reclutamento del personale scolastico sono materie di confronto a livello prima nazionale e poi regionale. La proposta di formazione delle classi e degli organici sono invece oggetto di informativa, di informazione a livello di singola istituzione scolastica. Articolo 22,9 lettera B1 del contratto collettivo nazionale 2018. In buona sostanza il dirigente scolastico appena l'organico dell'autonomia convalidato dal ambito territoriale e provinciale convoca e informa di questo i sindacati e le RSU e possibilmente al primo collegio docenti informa anche l'intero collegio. Andiamo alla terza e ultima domanda. Si può revocare soltanto una delle domande di mobilità presentate senza avere l'obbligo di revocarle tutte quante? L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di mobilità professionale, passaggio di carta e di ruolo, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande e solo alcune di esse. in tale ultimo caso deve indicare precisamente le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande del movimento, cioè viene annullata tutta la partita del trasferimento e del passaggio. Quindi in caso di mobilità territoriale e in comitanza di passaggio di ruolo di cattedra, l'aspirante potrebbe decidere di revocare soltanto la domanda per esempio di mobilità e passaggio di cattedra, lasciando invece che venga trattata solamente quella di passaggio di ruolo. In tal caso potremmo parlare di una revoca parziale. Vi salutiamo, vi chiediamo di continuare a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube, di seguirci anche sul nostro sito www.technicalascuola.it perché tratteremo in queste settimane proprio tematiche riferite anche a questi temi sulla domanda di mobilità. Arrivederci e grazie.